Marineria giuliese in lutto dopo la tragedia in mare nella quale hanno perso la vita l'armatore del pescareccio Eliana, Elia Artone ed il marinaio Carlo Mazzi. Un fatto che ha sconvolto la comunità giuliese. Non è bastata l'esperienza di due persone che conoscevano molto bene il mare. La furia della burrasca, unita ad altre contingenze negative, non hanno lasciato scampo. Siamo affranti da quello che è successo perché certe cose non devono succedere. A noi ci vuole il cuore quando è padre di famiglie che vanno in mare per portare a casa per i figli e perdere la vita in quel modo è assurdo. Lei conosceva bene entrambe le persone? Sono due bravissime persone, grandi lavoratori, Elia e Carlo, persone semplici, persone buone, marinai che ci tenevano al lavoro, ci tenevano al mestiere, persone esperte, Elia era esperto. Non è facile neanche capire quella che è stata la dinamica di questo incidente? Da come ho visto le foto che abbiamo fatto dall'arrivo, da come ho visto il geonavigatore che indica tutti i fenomeni elettrici che stanno per arrivare, l'aperturazione era abbastanza forte. Secondo il mio punto di vista sono unite due turbolenze che si sono unite in una. Su quel passaggio è difficile che una barca di piccole dimensioni se la scampi. Si è parlato anche del fatto che la rete si sia impigliata nell'elica, questa è un'altra fatalità. Bisogna vederlo, bisogna vederlo, potrebbe anche essere un problema di salpamento, perché logicamente non è facile, taglio la rete, perché la rete è composta da tanti cavi, catene e cose, non puoi tagliare. In quel momento se si blocca il vericello o succede che si rompa un tubito, il vericello salpapiano, tu sei vincolato, non puoi né tagliare né fare niente. Squeo di Federpesca pone anche l'attenzione sui cambiamenti climatici e sull'inasprimento di alcuni fenomeni atmosferici che si sono registrati negli ultimi anni. Sicuramente il clima è cambiato e noi che andiamo in mare bisogna valutare queste cose, bisogna guardare bene e bisogna scappare a terra quando accadono questi fenomeni, perché nel seno di questi fenomeni ci sono molte attività elettriche, fulmini e questo potrebbe essere anche, secondo i vecchi marinai, potrebbe essere anche una causa, un fulmine a bordo. Cordoglio è stato espresso anche dai rappresentanti delle istituzioni. Ieri sera il primo cittadino di Giulianova, Francesco Mastromauro, ha diffuso una nota nell'esprimere ai familiari dei due marinai deceduti. A nome personale dell'intera amministrazione comunale, il profondo Cordoglio e la vicinanza, il sindaco ha annunciato che proclamerà il lutto cittadino in concomitanza con i funerali. Stamani su Facebook anche le parole del presidente della regione, Luciano D'Alfonso, Mi ha dolore a sapere che ieri due marinai giuliesi sono stati travolti dalla furia degli elementi che li ha strappati all'affetto dei loro cari. Rivolgo alle loro famiglie le condolienze mie e di tutti gli abruzzesi.